Sono stati freddati a colpi di fucile da caccia. Giuseppe e Michele Padula, zio e nipote di 47-28 anni, di Apricena, sono morti così a bordo della Nissan X-Trail sulla quale stavano viaggiando. Erano sulla provinciale 36 che congiunge Apricena a San Paolo Civitate ed erano probabilmente usciti dalla masseria di famiglia. Forse gli assassini li attendevano. Dai segni sull'asfalto è certo che ci sia stato un inseguimento. La Nissan è sbandata, forse perché è stata raggiunta da un colpo esploso in corsa. Sulla careggiata è rimasta una cartuccia. L'auto ha perso il controllo e finita in una cunetta si è capovolta. A questo punto gli inseguitori si sono fermati ed hanno finito il loro lavoro di morte. Sul terreno altre cartucce. Michele, il nipote, espirato subito. Giuseppe qualche ora più tardi all'ospedale di San Severo dove era stato ricoverato. È probabile fosse proprio Giuseppe la vittima designata. Di mestiere faceva l'allevatore. Nel 2009 era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di altri due allevatori, Michele e Matteo Russo. I due scomparvero nel 2001 e di loro resti vennero ritrovati in una grotta otto anni dopo. Le due famiglie erano divise da rivalità relativi alle rispettive masserie. Insieme a Giuseppe era stato condannato all'ergastolo anche suo fratello Vincenzo, padre di Michele, morto oggi insieme allo zio. Però in appello i due fratelli erano stati assolti. Vincenzo era in carcere per altri reati. Giuseppe era sorvegliato speciale. Gli inquirenti non escludono che la doppia esecuzione di oggi possa inquadrarsi nell'ambito della faida che da anni oppone i Padula ai Russo.